Allora, che fatti stonzo però? Madonna, va via questo affare! Ma non me l'ha fatto perdere che te piglia un vomito! Te lo rimetto, non te muove! C'è qua di dare i coglioni per carità, eh! Ho velena davanti a settisico! Domani ti metto, eh! Eccolo! Era questo? Ma fai, fai un culo! Era questo? Ma che era questo? Cronologia dei video guardati! Te l'ho trovato, eccolo, è il primo là sopra! Mo si contenta?